Gli effetti della sisma coinvolgono milioni e milioni di persone in un'area enorme, come vediamo con Giovan Battista Brunori. Un'onda d'urto spaventosa, quella sprigionata dalle scosse che a partire dalle 4.17 di ieri, ora locale, le 2.17 in Italia, hanno avuto come epicentro la città turca di Gaziantep. Un terremoto avvenuto in un territorio vastissimo che, secondo una stima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha colpito 23 milioni di persone e che ha creato una vera e propria catastrofe al confine tra la Turchia e la Siria. L'impatto più forte si è verificato in un'area che si estende per 450 chilometri da Adana ad ovest a Diyarbakir ad est e per almeno 300 chilometri da Malatia a nord ad Hatay a sud. Anche se gli esiti più drammatici si sono registrati nella regione dell'Anatolia sudorientale, forti scosse sono state avvertite in Libano e a Cipro, ma il terremoto è stato avvertito perfino in Egitto e nell'Iraq settentrionale. Oltre 6.000 agli edifici crollati, un primo tragico bilancio purtroppo destinato a crescere quando si avranno maggiori notizie sull'apocalisse che ha colpito la Siria, città come Aleppo, dove alle macerie vecchie di una guerra che dura da 12 anni si aggiungono quelle nuove del sisma a 2 milioni di sfollati.